Quando si viaggia all'estero la prima scelta da fare riguarda il pernotamento. Le opzioni sono tante, alberghi, case vacanza, monolocali e mini appartamenti. Ma se decidete di volare in Australia avete un'altra possibilità, dormire in una stanza dell'IKEA. Il noto marco svedese specializzato nella vendita di mobili ha siglato un accordo con Airbnb, il portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio con proprietari di case e appartamenti da fittare per brevi periodi, lanciando una singolare proposta, un concorso che permette a tre fortunate famiglie di passare la notte del 31 agosto in una delle tre camere messe a disposizione dall'azienda in uno store australiano a Temple. Un'esperienza unica per tutti quelli che hanno sempre visto nelle stanze dell'IKEA la casa dei propri sogni.